Vorremmo farci un po' i fatti tuoi, cioè vorremmo sapere com'è Asia Morante fuori dal set, com'è nella vita quotidiana, quali sono i tuoi hobby, le cose che ti fanno più piacere, come trascorri il tempo? Allora, già si vede dal mio abbigliamento, mi reputo una ragazza comunque semplice, come tutte le altre ragazze ho degli hobby di cui nella vita normale mi piace comunque cucinare, mi piace cucire, mi piace creare vestiti perché comunque ho studiato stilista di moda, quindi è un hobby che appena ho un po' di tempo faccio, ho preso l'uncinetto la maglia, e sì, è un po' strano ma è così. E niente, poi comunque durante la giornata cerco di uscire, trovarmi anche degli svaghi, perché non lo so, perché mi trovo, sono fofinata a te. Allora, mi parlavi di cucina, quindi immagino sarai anche un'ottima cuoca, quindi molto conviviale, hai qualche ricetta da suggerire, magari un po' piccante? Allora, diciamo che ho iniziato a cucinare nella letta di nove anni per esigenti familiari, quindi fortunatamente adesso non ho nessuna difficoltà, è rimasto un hobby, e infatti tra queste io spero che mi venga proposto al più presto un programma di cucina, magari anche sexy, faccio un appello, io sono disponibile negli altri impegni comunque che ho in questo momento, che spero che si sviluppino molto a breve. Tornando alla cucina, secondo te qual è il piatto ideale per un appuntamento galante? Qual è la tua specialità? Ma ti giuro, non c'è una cosa specifica, mi piace fare tutto, non ce l'ho veramente. Ok, grazie.